L'anno liturgico apre le porte ed incomincia con un tempo forte, si chiama avvento e vuol dire venuta, questa parola non più sconosciuta. Ma che che viene Gesù bambino, andiamo gli incontri insieme in cammino, quattro domeniche al tempo di avvento, fiora il colore del suo paramento. Prima e seconda, la terza è gioiosa, detta gaudete di colore rosa, resta la quarta domenica sola e il paramento ridiventa viola. Ma l'otto dicembre bianco sarà, che all'immacolata è solennità, solennità non tutti lo sanno, vuol dire solo una volta all'anno.